Siamo dai Curvin via Zara numero 1 con la bellissima titolare Martina Nasole, ben trovata su KifraTV. Martina, ti chiedo subito come nasce questo bellissimo progetto, questo negozio di abbigliamento. Ciao a tutti, sono Martina. Questo negozio di abbigliamento nasce, è sempre stata una mia passione, e nasce nel voler coccolare tutte le donne, da una taglia 42 a una taglia 60, per far sentire tutte le donne apprezzate per il loro fisico. Martina, complimenti. Stanno scorrendo le immagini dei capi di abbigliamento che si trovano all'interno del negozio. Vogliamo entrare un po' più nello specifico per i clienti? Allora, sì. All'interno del negozio troviamo dalla maglieria agli abiti, a maggio aggiungeremo anche gli abiti da cerimonia per gli eventi che ci saranno, poi abbiamo anche accessori, scarpe e tanto altro. Martina, siete qui in via 0 numero 1, dal 19 novembre avete portato una ventata di aria nuova. In questo quartiere, io so che sei particolarmente legata a questa zona di Taranto. Questa è la mia zona dove sono nata e cresciuta, e diciamo che sono stata accolta molto bene. Penso che, spero che andrà sempre avanti e rinascerà sempre di più. Io comunque sono fiduciosa e al momento è andato molto bene. Un'ultima battuta prima di lasciarti al tuo lavoro, Martina. Insomma, il negozio è sempre pienissimo, stanno scorrendo delle immagini con tanti clienti che stanno acquistando, però so che è possibile mettersi in contatto con te e con voi anche attraverso i social, è vero? Sì, sì. Io mi dedico alla pagina di Instagram e a breve introduceremo anche il sito e-commerce per acquistare i nostri capi online. E allora, appuntamento per gli amici di Kifra TV dai Curvin, via Zara numero 1 a Taranto. Grazie alla titolare Martina Nasole. Grazie a te Matteo, un bacio a Kifra TV.